booking farai girare il mondo da domani in cerca di te per capire se da bene o tu sei uguale a me vorrei guardare a cone alle tue mangue ttp mi fai voire io sincero e tu guarda me chi porta a Rio de Janeiro, a Trevo, in Ecuador, in Nicaragua, a Quartemana, Cuba al centro della Havana fino a giù nella terra dei vuoti, il mare dei Caraibi o la Repubblica Domenicana infine l'Argentina, la terra dei tori, del pazzo di Dago, il tocco di Diego Armando a Giurre Bianca con il sole, posto al centro della Battiera, su Migliorronio per la Napoli stasera in colo come aquile reali